Musica Avevamo detto che sarebbe stata una biennale nel bosco, una biennale di Venezia nel bosco e così è stata, questa sesta edizione è stata allietata da tantissimi artisti centinaia di persone sono venute a trovarci, a vedere il 20 chiudiamo, il 20 chiude un mese di Land Art al Furlo l'appuntamento è per le 4 quando ci sarà una conversazione sull'arte telematica che compie 30 anni e poi il concerto di chiusura affidato a Arbitere Eleganzie è un quartetto di giovani cantautori di Senigallia, molto bravi e quindi vi consiglio di arrivare per tempo per le 5 dopo non ci sarà la risistemazione del tuffo, della sirenetta del furlo perché è in ospedale per due mesi sarà curata e restaurata dalla scuola di restauro e conservazione dell'università di Urbino e quindi aspettiamo, tra due mesi la rimetteremo a posto sulla riga e faremo una bella festa sicuramente e quindi vi aspettiamo il 20 domenica dalle 4 in poi grande festa di chiusura della Land Art al Furlo grazie